Attenzione, WIG3, match sponsor di Monza Lazio, mi presenta il primo tempo. Atenzione, WIG3, match sponsor di Monza Lazio, mi presenta il primo tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ne sono due, una perla di Milinkovic e i 5.000 di oggi fazziscono. E' così, è così, un'altra vittoria, settima trasferta quest'anno che nasce a riso, 5 vittorie. Un pareggio è purtroppo una brutta scontata di Lecce, ma oggi Alassio ha confermato di essere una grande squadra, compatta, imbattibile in difesa. E quando è così non c'è per nessuno, un'partita che poteva anche finire con un risultato più rotondo. Insomma, ci siamo, abbiamo preso questi 5 punti sulle inseguitrici, che poi in realtà sarebbero 6, perché abbiamo praticamente tutti gli sconti di Redi vinti e anche un'ottima differenza Redi. Per cui, che dire, è tutto molto meritato. Mi dispiace doverlo dire, perché poi i punti non lo capiscono, ma non fa niente, ma era giustissimo uscire dalla pattumiera League. Perché Alassio solo così può, con la rosa che si ritrova, che è un'ottima rosa per 14 elementi, ma non per 22. Solo così poteva reggere il campionato e riuscire a fare questo sprint. Naturalmente non è concluso, mancano 10, 10 partite. Saranno battaglie, cominciando quella contro la Juventus, sabato prossimo. Insomma, sono gli altri che devono temere noi, non certo noi. È un bellesimo clean sheet della stagione, ora i ragazzi sotto la curva. Bella ragazzi, grandissima partita, di grande maturità, di grande applicazione. Su un campo difficilissimo, insomma. Non si trattava certo di andare contro l'ultimo in classifica, ma ho fatto una squadra molto forte. Non si trattava certo di andare contro l'ultimo in classifica, ma ho fatto una squadra molto in classifica, ma ho fatto una squadra molto in classifica. E così è tutto per questa trasferta. Vediamo se vogliono rifare un'altra volta sul suggerimento della curva, un'altra volta il saluto. Insomma, va bene anche così. Eccoli qua, dai, va. C'è il cuore Lanceri che non ce la fa più. Ecco, lo va a prendere le tue spalle, ragazzi. Gata, Dio. Con il miglior portiere in Italia. La migliore coppia centrale della ritenziva. Ecco. E' tutto da... Lo stato di Monza, Monza 0, Lazio 2, secondo in classifica, con largo margine sui seguitrici. Veramente è una grande gioia.